Musica Lo stato di emergenza non ha ragione di esistere, l'appello al governo e al Parlamento del Comitato E ora basta Italia che chiede di revocare l'obbligo del Green Pass e di interrompere le misure definite liberticide Il lascia passare fino a primavera o all'inizio della prossima estate L'estensione del Green Pass al vaglio del governo divide ancora l'opinione pubblica Perché siamo tranquilli tutti, poi sono sicuro che facendo così hanno fatto il vaccino E il vaccino è l'unica cosa che ci può salvare A Fanno l'incontro sul nuovo piano sociosanitario, Salta Martini assicura Santa Croce non verrà depotenziato, nuovo nosocomio a Pesaro sarà l'ospedale delle Marche Da oggi al via il lavoro del gruppo tecnico che dovrà stabilire dove realizzarlo Dalle buche ai tombini sopraelevati, dai cassonetti al restringimento della carreggiata Ecco una simulazione di come percorre via trave Chi è in carrozzina i residenti assicurano andiamo dal prefetto e non molliamo Fino a che non verrà tolto questo obrobio I giochi di una volta, musica e sano divertimento Nel quartiere di Sant'Orso a Fanno a Halloween sarà agli etofine Associazioni, parrocchie e comune insieme per dire no agli atti vandalici dello scorso anno Buonasera e benvenuti, questa è Occhio alla Notizia Lo avete sentito dai titoli, il Green Pass continua a far discutere C'è chi chiede che venga eliminato per garantire l'esercizio dei diritti fondamentali Come è quello allo studio, quello al lavoro Oggi il comitato Eora Basta Italia lancia un appello direttamente al Parlamento Lo stato di emergenza non ha quindi ragione di essere Non può essere mantenuto, non può essere prorogato Il nostro è un appello al governo e soprattutto al Parlamento Espressione della volontà popolare Ad interrompere al più presto le misure liberticide A revocare al più presto il Green Pass A consentire ai cittadini italiani di tornare alle libertà costituzionali Un messaggio forte e chiaro, quello che arriva da Beatrice Marinelli Laureata alla Bocconi di Milano e specializzata in discipline economiche e sociali Nonché cofondatrice e portavoce del comitato Eora Basta Italia Beatrice non solo ha detto la sua sulle norme imposte dal governo Ma ha ripercorso anche le tappe di questo ultimo anno di pandemia Con le limitazioni che hanno colpito tanti settori La ristorazione, il turismo, lo sport e lo spettacolo Fino alla fascia giovanile con l'imposizione nei primi novembre 2020 Delle mascherine agli studenti, pure se seduti al banco e distanziati A primavera poi è sopraggiunto l'obbligo vaccinale per i sanitari Al quale è seguito quello al mondo della scuola E di recente ai lavoratori pubblici e privati, dipendenti e autonomi I DPCM autunnali hanno portato l'anno scorso a importanti manifestazioni Come quella che si svolse proprio il 27 ottobre 2020 a Civitanova Marche Che è la mia città, con 1200 persone in piazza Provenienti da tutte le province della nostra regione Oggi a un anno di distanza, in un climax ascendente di restrizioni E di limitazioni delle libertà personali, in particolar modo dei lavoratori Assistiamo a questa introduzione forte, massiccia del Green Pass Della tessera verde E quello che viene presentato oggi come uno strumento per ritornare alla normalità Appunto il Green Pass Non è altro che il limite ormai ampiamente valicato Di ciò che era tollerabile nella costrizione delle libertà costituzionali Il diritto al lavoro, il diritto allo studio Sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione Diritti fondamentali, diritti assoluti Dal latino, ab-soluto Sciolto da ogni condizione E qui Beatrice fa riferimento al vaccino o al tampone Le due condizioni per l'esercizio dei propri diritti fondamentali In questi giorni si sta parlando di un'eventuale proroga Dello stato di emergenza e di conseguenza anche del Green Pass Che cosa ne pensa? Le scelte che sta portando il governo Draghi In assoluta continuità con il Conte 2 Sono delle scelte che ormai agli occhi di tutti Non hanno più carattere sanitario Sempre più si sta affermando questo che è a tutti gli effetti un regime Proprio perché le imposizioni sono sciolte da qualsiasi logica Politica, razionale, men che meno sanitaria Proprio la settimana scorsa, il 19 ottobre L'Istituto Superiore di Sanità ha emesso un report aggiornato Delle morti considerate per Covid Con una rettifica importante e sostanziale dei dati finora noti Non sono 130.000, come ci è stato raccontato finora Ma solo 3.783 i morti di Covid Questo dato è contenuto nel rapporto aggiornato Dell'Istituto Superiore di Sanità Pubblicato e verificabile sul sito stesso dell'Istituto Questo, ha spiegato la portavoce Significa che tutte le restrizioni che abbiamo vissuto da un anno a questa parte Sono misure non comprovate da necessità sanitarie E da dati oggettivi, scientifici, inconfutabili Verrà il momento in cui analizzeremo e capiremo di chi sono le responsabilità degli errori commessi Dei dati trasmessi Dei tamponi che evidentemente hanno prodotto falsi positivi E quindi dei numeri abnormi rispetto alla realtà Verrà il momento in cui capiremo di chi è la responsabilità di chiusure selvagge delle nostre attività E della riduzione della nostra possibilità di lavorare e di studiare liberamente Adesso è il momento di prendere una rotta diversa Di tornare alla libera espressione dei nostri diritti Di tornare a una possibilità di lavoro, di fare impresa, di studiare, di confrontarsi, di vivere Secondo quelli che sono i dettami della nostra Costituzione La proroga dello stato d'emergenza non solo non è necessaria ma è assolutamente dannosa Ma rischia di mantenere in piedi un sistema di norme liberticide Di restrizioni che non hanno alcun senso logico E anzi comportano una riduzione indelebile delle libertà dei nostri concittadini E adesso sentiamo che cosa ne pensano i pesaresi dell'eventuale estensione del Green Pass Le interviste sono state realizzate da Angelica Panzieri Rallentano le vaccinazioni in tutta Italia, così anche nella nostra regione Per questo allo studio del governo c'è l'ipotesi di prorogare il Green Pass fino al 2022 Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i cittadini Se lo vogliono va bene allora, se vogliono vaccinare tutti, che vaccinino tutti e continuiamo con il Green Pass Sono vaccinato e penso che sia giusto tenere un controllo in generale Mascherine dove c'è molta gente Però penso che più controllo facciamo e non facciamo la fine dell'Inghilterra Lei cosa pensa dell'estensione dell'obbligo del Green Pass al 2022? Favorevole, favorevole, favorevole perché mi fa sentire anche più sicura Anche uscendo Noi siamo tranquilli Se non avessi avuto il vaccino non avrei superato il Covid come l'ho superato Lei ha avuto il Covid? Certo, dopo la prima dose Ma non me ne ero accorta Ho fatto un tampone perché dovevo andare a trovare mio figlio fuori Per sicurezza ho detto mi faccio il tampone perché c'è un bambino E sono uscita positiva Però non avevo sintomi Questo sta a significare che tanta gente che sta in piazza Che non vuole il vaccino Può stare nelle mie stesse condizioni Che ho avuto anche io Molto favorevole, parliamo di tutto perché siamo tranquilli di tutto Poi sono sicuro che facendo così hanno fatto il vaccino E il vaccino è l'unica cosa che ci può salvare Altre cose non ce ne stanno Non ci giriamo intorno, sì ci sono degli imbrogli che hanno fatto Quelle che hanno fatto, hanno fatto Lo sappiamo tutti Ma anche adesso con questi argomenti che ci sono Nessuno va in piazza a fare quello che deve fare Vanno solo per un cream pass che comunque Anna fa Perché possiamo uscire Siamo tutti Noi non vorremmo ritornare a quello che abbiamo passato 2020 Nelle ultime 24 ore nelle Marche si è verificato un decesso legato al coronavirus Si tratta di una donna di 85 anni residente nel maceratese Nel percorso nuove diagnosi invece i positivi riscontrati sono 91 Di cui 10 nella provincia di Pesero e Urbino La più colpita però è macerata con 28 nuovi casi Infine negli ospedali della regione ci sono due ricoveri in più rispetto a ieri Per un totale di 61 Resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva Mentre scende leggermente quello dei degenti in semi intensiva E oggi al Teatro della Fortuna di Fano si è parlato del nuovo piano socio-sanitario della regione Prima dell'incontro abbiamo intervistato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini e il sindaco Seri per capire quale sarà il futuro di Marche Nord Ma anche degli ospedali di Fano e di Pesero Sentiamo Noi oggi facciamo una ricognizione dei bisogni delle comunità territoriali Sulla base del piano socio-sanitario vigente Quindi chiederemo quali sono le modifiche che gli stakeholder istituzionali I comuni, i sindacati vogliono apportare In modo tale che tra qualche settimana possiamo approntare la bozza con cui cominciamo a modificare il piano Ma è vero che si parla di una struttura da 12 milioni di euro qua per Fano? Fano avrà una struttura adeguata perché è un DEA di primo livello Lo voglio dire al di là di ogni suggestione Il numero di accessi e di cure operate all'ospedale di Fano Che è un DEA di primo livello è equivalente all'ospedale di Pesero Quindi Fano non potrà avere nessun tipo di depotenziamento o di decurtazione I numeri parlano in modo chiaro L'ospedale, il DEA di primo livello di Fano e il DEA di primo livello di Pesero Sono assolutamente, lo ripeto, equivalenti Sia dal punto di vista degli accessi sia dal punto di vista dell'utenza che serve del territorio Ecco invece per l'ospedale di Pesero oggi si è costituito un gruppo tecnico Oggi si è costituito un gruppo tecnico Che è incaricato entro 13 giorni di elaborare la scelta definitiva Che è una scelta tecnico-amministrativa Nel senso che noi dobbiamo soddisfare gli interessi pubblici E valutare qual è la migliore dislocazione per la realizzazione di quest'opera Che è molto importante, non solo per la città di Pesero Questo sarà l'ospedale delle Marche, sarà per tutta la regione Qual è il destino dell'azienda Marche Nord? Marche Nord è un'azienda che ha dimostrato una piena efficacia e vitalità L'ha dimostrato nella pandemia, lo dimostra con la mobilità che attrae anche dalle regioni vicine Naturalmente è chiaro che dobbiamo chiarire bene per una provincia importante come questa Qual è il livello sanitario che i cittadini si attendono Quindi noi siamo qui per ragionare e certamente anche per potenziare i servizi di questa provincia Importantissima, sia dal punto di vista del numero degli abitanti Sia dal punto di vista del PIL che produce Intanto per fortuna c'è un incontro sulla sanità Perché è da tanto che non se ne parla direttamente È un'occasione per conoscere quelle che sono le posizioni della nuova amministrazione regionale Perché non dimentichiamo che la sanità è una competenza specifica della regione Perché altrimenti è inutile che ci giriamo intorno Se non ci sono le offerte adeguate poi la gente si orienta da altre parti Sindaco, ma per il Santa Croce che cosa chiedete? Ecco, per il Santa Croce è capire Intanto non può non esserci un dialogo fra le due strutture ospedaliere come oggi Marche Nord oggi è una cosa importante Perché non si possono cancellare anni e così in un solo momento Si pensa, da quello che si legge, insomma di alcuni atti di una nuova struttura ospedaliera su Pesaro Beh, Fano non può essere un semplice restalling Se deve rimanere una struttura ospedaliera deve essere a tutti gli effetti Con i contenuti che dialoga con la struttura di Pesaro Però con anche nuove realtà e anche sotto l'aspetto edilizio vero e proprio Non può rimanere così com'è Questo è fuori discussione Oltre 280.000 mascherine chirurgiche sprovviste del marchio CE sono state sequestrate al porto di Ancona Dall'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza I dispositivi di protezione erano a bordo di un tir con targa bulgara Appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia La ditta responsabile dell'immissione in commercio Rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro Ed ora ci spostiamo in via Trave a Fano dove i residenti contrari alla nuova viabilità Hanno simulato il passaggio lungo la strada di un disabile in carrozzina Per mostrare le enormi difficoltà che si affrontano durante il percorso Cartelli, bidone della raccolta della carta, tutte queste cose qui Ho poi buche a non finire, caditoie sparse dappertutto Ho tombini sopraelevati Quindi ecco quello che abbiamo incontrato Non è una sceneggiata né una carnevalata ma una dimostrazione Lo ha precisato sin da subito Carlino Bertini, residente della zona Che questa mattina insieme a Giorgio Francolini Ha fatto vedere in che modo un diversamente abile deve percorrere via Trave Dopo le modifiche recenti apportate dall'amministrazione comunale di Fano Abbiamo fatto un percorso, questo percorso ad ostacoli e magari con un traffico limitato Quindi non con tutte le difficoltà del traffico di mezzogiorno della mattina alle 7 Però un percorso molto accidentato Il conducente ha dovuto rientrare diverse volte Perché ci sono dei tombini sopraelevati addirittura nei passaggi pedonali Io pedone ci passo tranquillamente Io con un handicap non riesco a superare Io mamma con la carrozzina non ce la faccio Ecco questo i tecnici del comune di Fano non si sono resi conto di questi Per esempio guardate Qui c'è un dosso La caditoia è dopo del dosso In caso di pioggia ecco l'allagamento Tanto Fano è abituata agli allagamenti Non c'è problema È un piccolo allagamento Ma la caditoia non la si fa dopo del dosso In questo regno noi sudditi non abbiamo assolutamente la protezione Nella città dei bambini in cui vivono persone disabili Ha poi chiesto Bertini Si vuol provvedere a fare un percorso per questa categoria più debole Intanto ieri in via Trave sono stati eseguiti dei controlli da parte dei vigili urbani Mi sono anche meravigliato Tanto è vero che su Facebook ho scritto miracolo in via Trave Dopo dieci mesi si è visto una pattuglia con un rilevatore di velocità È un pagliativo, non serve a niente Serve al momento finché loro sono presenti E le macchine, nonostante questo credo che Mi sembra che abbiano fatto 3-4 multe Però i lampeggi dall'altra parte Il cartello che diceva che c'era una pattuglia È chiaro che ha invogliato tutti ad andare molto lentamente Non servono niente queste cose Non lo ribadiamo, io personalmente Ma tutti i residenti lo ribadiscono da due anni e mezzo Che l'unico mezzo per fermare la gente che va forte È un rilevatore di velocità fissa Andrete anche dal prefetto? Sì, abbiamo un incontro credo fra una settimana Massimo dieci giorni con il prefetto Proprio per illustrare le problematiche di questa via E degli obbrobri che hanno fatto Questa rotonda e la strettoia davanti alla palestra E la strettoia in fondo E quindi ci muoveremo e non saremo mai fermi Finché non hanno tolto questa schifezza Non rispondere con autorità Ma coinvolgere i ragazzi Non sanno divertimento Il quartiere di Sant'Orso a Fanno Si rimbocca le maniche E organizza per il 31 di ottobre Bella storia Halloween a lieto fine Per scongiurare tutti gli atti vandalici Accaduti lo scorso anno Alla conferenza stampa c'era per noi Letizia Marchionni Halloween è alle porte E dopo gli episodi di vandalismo Che lo scorso anno hanno fatto vivere Una vera e propria serata d'orrore Ai residenti di Sant'Orso A causa di scorribande di giovani Che hanno messo a ferro e fuoco la zona Quest'anno il quartiere fanese Non si farà trovare impreparato Non rispondiamo agli avvenimenti Dello scorso anno con autorità Ma coinvolgendo i giovani Ha affermato il sindaco Seri Il 31 ottobre infatti È in programma una serie di iniziative Racchiuse nell'evento Bella storia Halloween a lieto fine Che animeranno Sant'Orso Per trasformare il 31 ottobre In una festa E non in un incubo per i residenti Il quartiere di Sant'Orso È pronto a scrivere una bella storia Una storia che arriva da un progetto Che nasce da mesi fa Un progetto che abbiamo lavorato Assieme all'oratorio All'azione cattolica Anche all'associazione di quartiere E via via ci siamo invece portati con noi Tante altre persone Associazioni sportive Associazioni culturali Ma anche diverse parti Di questo proprio territorio Di questo quartiere Dai negozi che si sono messi a disposizione Per laboratori Al Clebanziani L'ambito sociale Il Gas Gas L'unità di strada Il Paese dei Balocchi E tante altre società Che naturalmente hanno aderito al programma Un programma che è il frutto Di una comunità educante Una comunità che educa Che sospende il giudizio E che sicuramente vuol far feste insieme Un progetto che è stato naturalmente curato Dalla stessora Cucchiarini Per quanto riguarda la sicurezza Che ha messo in piedi attraverso la polizia locale La prefettura si è mossa La protezione civile sarà qui presente Con otto persone Che sia per quanto riguarda l'antincendio Ma anche per quanto riguarda il presidio dell'area Il valore importante che ha dal punto di vista sociale Perché è questo evento Il frutto di un lavoro tenace Anche se magari poco appariscente Un lavoro di prevenzione Che coinvolge tante realtà E che anche dal punto di vista del servizio sociale Riesce poi a portare A dare come riscontro Un evento in cui davvero i ragazzi I giovani siano coinvolti Siano protagonisti E siano anche più responsabili Più sicurezza e anche più divertimento Il 31 ottobre Sant'Orso Si animerà a partire dalle 15.30 Fino alle 23 Con una serie di iniziative Nel pomeriggio i più piccoli Potranno divertirsi Tra giochi e laboratori Per la creazione di maschere e costumi Ampia scelta anche per i ragazzi Per cui sono previste numerose attività Tra cui ballare o fare sport Dalle 20 poi si accenderà la musica Con il Bella Live Music Mentre alle 21 è previsto l'incontro Con il giornalista Luca Pagliari In programma anche una caccia al tesoro Per coinvolgere a pieno Tutto il quartiere di Sant'Orso Tutti i dettagli su iniziative d'orari Sono disponibili sulla pagina Facebook Dell'Azione Cattolica Sant'Orso Come parrocchie in modo particolare Come azione cattolica E anche come oratorio parrocchiale Quando sono successi i fatti Ci siamo interrogati come Cosa potevamo fare noi Per i ragazzi e i giovani Che in parte erano anche i nostri Quelli che frequentano le attività Che proponiamo tutto l'anno E ci siamo chiesti ecco Come intervenire Abbiamo deciso ecco di creare Questa iniziativa insieme Perché crediamo che solo insieme Si possono portare avanti Delle belle storie appunto Abbiamo subito trovato l'accordo Un confronto Per cercare di coinvolgerli Fin da bambini Perché bisogna far capire Fin da bambini Che il civismo Il quartiere in cui abitano È casa loro Perciò comportandosi bene Si cresce meglio E si viverà ancora meglio Perciò tutti uniti Fin dai piccoli Per i più grandi Per tutto il quartiere L'associazionismo Collaborerà per creare Questa bella storia Dalle ceneri Della brutta storia Dell'anno passato E oggi è uscito Ufficialmente su Youtube E su tutti i social Il cortometraggio L'aiutante di Zia Lupa Opera realizzata Dall'insegnante fanese Animalista Stefania Schiaroli Sulla sensibilizzazione E il rispetto Di tutti gli animali E anche questa sera Apriamo l'album di Fanu TV Per fargli auguri Al dottor Gian Maria Zuccari E a sua moglie Katia Barbetti Che ieri Hanno festeggiato 53 anni di matrimonio Nozze di ciliegio Per questa coppia Residente a Mundolfo E oggi invece Giuseppe Sciriscioli E Anna Maria Marinelli Festeggiano 56 anni Di matrimonio Questa coppia È residente a Serrungarina Di Coglialmetauro E non finisce qui Auguri anche a Tonino Pierini E a Giuseppina Fossi Residenti a Tavernelle Di Coglialmetauro Che oggi festeggiano Le nozze di diamante 60 anni di matrimonio Auguri da tutti i familiari E dallo staff di Fano TV Subito dopo di noi Le previsioni del tempo E poi uno speciale Dedicato alla Confartigianato Che era presente Alla Fiera Nazionale Del Tartufo Di Acqualagna E per l'informazione è tutto Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia E buona serata a tutti voi Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video